Fino all'ultimo battito 2 si farà? Ieri sera è andata in onda la sesta e ultima puntata della serie Fino all'ultimo battito, che vede Marco Bocci nei panni di protagonista. La fiction ha riscosso molto successo e nell'ultima puntata ha ottenuto il 22,6% di share, con circa 4.600.000 telespettatori. Abbiamo lasciato Diego disposto a farsi arrestare, infatti il pacemaker aveva un localizzatore e padrono potrà quindi essere catturato, ma nessuno deve sapere che è suo il merito ed è quindi disposto ad andare in carcere. Bianca Guaccero ha confermato che ci sarà una seconda stagione della fiction fino all'ultimo battito e che tra qualche mese sarà di nuovo sul set e che non vede l'ora di rivedere i suoi colleghi. Si è molto affezionato al suo personaggio e la conferma della seconda stagione non arriva solo da Bianca Guaccero, ma anche da uno sceneggiatore. Se gli attori saranno di nuovo sul set tra qualche mese, salvo imprevisti, è possibile ipotizzare che la seconda stagione potrebbe andare in onda a fine 2022 o inizio 2023.